Il fenomeno del momento, allora stiamo per vedere Vivetta, vi basti pensare che la chiamiamo una giovane designer però è già presente nei più importanti concept store del mondo, da Isetan a Colette e che ha avuto l'imprimatur, la benedizione da Giorgio Armani, presenta la collezione Autunno-Inverno 16-17, ispirazione Erte, i colori, il tratto, l'eleganza, la creatività che sta anche in quei colletti, in quel gioco e fantasia che è sempre bellezza, la vogliamo vedere insieme? Vivetta Punti? Sì, vediamo insieme, Vivetta Punti. Vivetta. Sì, vediamo insieme. 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 Grazie a Vivetta per essere stata con noi.